Notizie dalla Puglia Latiano, martedì 6 ottobre Carolina Bubbico ospite di Idea Radio presenta il suo album Il Dono dell'Ubiquità. Martedì 6 ottobre, su Idea Radio nel corso della trasmissione live, in onda dalle 15 alle 20, sarà ospite Carolina Bubbico. È uscito il 2 ottobre 2020 Il Dono dell'Ubiquità il nuovo album di inediti di Carolina Bubbico, pubblicato da Sun Village Records con il sostegno di Puglia Sounds Records e la distribuzione di IRD. Si tratta del terzo lavoro discografico della cantante, pianista, arrangiatrice e direttrice d'orchestra, che negli ultimi anni ha collezionato importanti esperienze e partecipazioni, arrivando a esibirsi nei più significativi festival italiani ed internazionali e nei migliori club, tra cui i blu note di Milano, Tokyo e Pechino, e partecipando a Sanremo 2015 in veste di arrangiatrice e direttrice d'orchestra per il volo, vincitori tra i big e per Serena Brancale tra le giovani proposte. A distanza di cinque anni dal precedente album, l'artista ritorna con un lavoro ampio che contiene 15 brani, tutti in lingua italiana, eccezione fatta per una canzone in francese, Voyage. Le canzoni si distinguono per la loro varietà di stile, a testimonianza della capacità e propensione di Carolina Bubbico a trovare sempre nuovi punti di incontro tra diversi linguaggi musicali. Come il titolo dell'album suggerisce, Carolina concepisce una musica davvero eterogenea, al di là di ogni etichetta. In questo nuovo lavoro, infatti, l'artista esplora in libertà vari universi sonori, creando chiaroscuri tra l'acustico e l'elettronico, tra ballabili groove, canzoni intime e sonorità world. Le canzoni ritraggono quadri di vita vissuta attraverso personaggi reali e immaginari, raccontando la complessità dell'animo umano, attraversando temi universali. Realizzato con il supporto artistico e tecnico del fratello Filippo Bubbico, che ha prodotto l'intero album, il dono dell'Ubiquità raccoglie i frutti delle numerose collaborazioni avviate nel corso degli anni da Carolina. Sono stati infatti coinvolti, nelle registrazioni, numerosi musicisti nazionali ed internazionali, Baba Sissoko, Michael Mayo, Abdissa Assefa, Simon Muglie, Redi Assa, Sud Sound System, Speaker Cenzu, Serena Brancale, Davide Shorty, Rachele Andrioli, Nando Di Modugno, Giovanni Chirico, Clara Calignano, Antonio De Merianis, Manu Funk, Morri Spellizzari, Paco Carrieri, oltre ai compagni di sempre Luca Alemanno, Federico Pecoraro, Dario Congedo. Il dono dell'Ubiquità è stato anche un preciso tratto distintivo della produzione. La modalità home studio nei luoghi di residenza dei vari musicisti o nei propri studi di registrazione, è stato condotto e gestito da Carolina, trovandosi contemporaneamente a dare indicazioni su più fronti, acquisire materiali, in un tutto che molto spiega la sua innata capacità di coordinare e contribuendo così a conferire all'intero lavoro un'autentica ispirazione artistica. Il disco è stato anticipato dal singolo e video bimba già in alta rotazione su Idea Radio. Sarà possibile seguire l'intervista su Idea Radio, in streaming sul sito idearadionelmondo.it e tramite smartphone e tablet scaricando l'app Idea Radio nel mondo sugli store Android, iOS o Windows mobile.